Migliaia di studenti da vaccinare in pochi giorni in vista dell'esame di Stato che scatterà a metà giugno. Adesioni record si stanno registrando tra i maturandi desiderosi di sottoporsi al vaccino e vivere in sicurezza un momento importante della propria carriera scolastica. In alcuni distretti dell'Asl in provincia di Salerno la campagna vaccinale dedicata è già iniziata. Nel capologo si parte nel giorno della festa della Repubblica. In queste ore centinaia di studenti vengono convocati dall'Asl presso il centro vaccinale dell'Agusteo dove si prevede una grande affluenza di maturandi nei prossimi giorni. Così come puntualizzato dal responsabile dell'emergenza Covid dell'Asl di Salerno il dottore Arcangelo Sagese Tozzi, agli studenti maggiorenni sarà somministrato il vaccino monodose Johnson mentre ai minori che dovranno sostenere la maturità e non sono molti sarà inoculato il vaccino Pfizer. Anche per i più giovani con l'estate alle porte si entra nel vivo della campagna vaccinale soprattutto dopo l'annuncio della Commissione europea che ha approvato l'utilizzo del vaccino Pfizer anche per gli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 15 anni. Nel frattempo l'Asl di Salerno ha ricevuto altre migliaia di dosi che permetteranno ai centri vaccinali del territorio di non mutare la media di somministrazione di questi ultimi giorni circa 80.000 solo nell'ultima settimana una media che se mantenuta permetterebbe di coprire l'intera popolazione prenotata su piattaforma entro fine luglio.